Siamo a Damburgo con Domenico Andreoli, responsabile dei marketing e comunicazioni di Time & Track Italia, davanti a quella che è la rivelazione del giorno, l'E Actros 600, una vera rottura col passato del track commerciale. Domenico, che cosa ne pensi? Beh, è semplicemente bellissimo, oltre che tecnologicamente avanzato all'avanguardia, ma direi di più. È veramente un track che sposta di nuovo l'asticella del mercato dei track elettrici. Tant'è vero che questo veicolo che è alle mie spalle, quindi l'E Actros 600, ha un'autonomia fino a 500 km e si ricarica attraverso il Megawatt Charger in 30 minuti, o attraverso le ricariche convenzionali in 45 minuti dal 20% all'80%. Quindi è un veicolo rivoluzionario, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche nel design. Ecco, una delle grossissime novità è proprio il Megawatt Charger. È una novità assoluta e che permette anche lo sfruttamento delle batterie praticamente al 100%. Sì, il Megawatt Charger quindi è una grande innovazione, il veicolo ne è dotato sin dall'inizio come optional e quindi può essere in grado di essere ricaricato attraverso questa tecnologia. Le batterie di ultima generazione LFP consentono chiaramente uno sfruttamento al 95%, significa che con una dotazione di 620 kWh restano sfruttabili 600 kWh per permettere quindi un'autonomia di 500 km. La produzione, abbiamo sentito, sarà dalla fine del 2024, ma in Italia quando vedremo circolare questo veicolo. Ci aspettiamo subito dopo, quindi a partire dal 2025 ci auguriamo di vederne tanti sulle nostre autostrade per un trasporto veramente a zero emissioni. Bene, allora stay tuned!